Seconda udienza in tribunale questa mattina sul ricorso presentato dall'avvocato Vincenzo Colaiacovo per vietare la diffusione delle fotografie della statua di Ovidio con il capo cinto da una treccia di bulbi di aglio. La decisione del giudice Valeria Gioeli sarà emessa nei prossimi giorni. La vicenda è finita nelle aule giudiziarie dopo la divulgazione di un volantino del Consorzio per la tutela dell'aglio rosso che ritraeva Ovidio con la testa coronata di agli. La foto fu scattata durante una manifestazione in piazza 20 settembre nello scorso mese di dicembre. Il giudice ha ascoltato le parti sia l'avvocato Colaiacovo che i legali del Consorzio e dell'autore della fotografia. L'avvocato Anna Berghella, difensore del Consorzio per la tutela dell'aglio rosso, sostiene che il ricorrente non è legittimato ad agire e che non esisterebbero i presupposti per il procedimento d'urgenza, così come richiesto da Vincenzo Colaiacovo che dal canto suo ha depositato una nutrita lista di sentenze e pareri riguardanti la tutela dei beni comuni e per avvalorare maggiormente la sua tesi ha chiesto che venga ascoltata la direttrice del Polo Museale Abruzzese, Lucia Arbace, che nei mesi scorsi aveva affermato come nell'immagine in questione non vi sia alcun contenuto artistico. La decisione inizialmente prevista per lo scorso 30 settembre era stata rimandata all'udienza di stamane, ma il giudice, dopo aver acquisito tutti gli elementi, si pronuncerà nel merito tra qualche giorno.